Salve terrestri, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la recensione dell'applicazione Launcher per iOS. Bene, questa applicazione è un launcher, non come su Android, ma cerca di ricalcare il launcher su Android. È disponibile per dispositivi non jailbroken, quindi normali. Premete un'applicazione che vi permette di far partire qualsiasi tipo di applicazione che avete salvato sul vostro telefono dal pannello dei widget. Possiamo noi andare a inserire un launcher per i contatti, dei collegamenti che vi permettono di chiamare delle persone, ma dare sms a persone specifiche, dei collegamenti per dei siti web che volete voi, oppure delle applicazioni che sono quelle più interessanti. Clicchiamo su App Launcher, possiamo andare a selezionare qualsiasi applicazione che ho salvato, che ho scaricato sul mio iPhone. Quindi, non so, voglio per esempio un collegamento che mi permette di aprire iMovie. Clicco qui, lo salvo. Adesso tiro sul pannello le notifiche e come vedete c'è il collegamento iMovie, direttamente nel pannello dei widget. Clicco e iMovie parte. Posso naturalmente anche andare a cambiare l'immagine, se volessi cambiare l'immagine posso anche toccarla, selezionare o l'immagine dell'applicazione o un'icona fatta su misura, che posso addirittura scattare una fotografia. Prima di me sembra che la fotocamera non funziona, comunque posso andare a scegliere una fotografia. che ho già fatto. Posso addirittura, questa è la versione gratis per 3,99€ mi sembra, qua lo vediamo. 3,99€ possiamo aumentare i widget e personalizzarli di più. Però potete farli molte cose anche con l'applicazione gratuita. Da App Launcher possiamo anche selezionare tutte le impostazioni di sistema. Quindi per esempio qui ho già fatto un widget che mi permette di attivare o disattivare la linea dati cellulare. Quindi clicco qui e lui automaticamente mi va sull'impostazione di sistema per selezionare la rete dati cellulare. Oppure clicco qui e posso selezionare la suoneria. Su qualsiasi tipo di impostazione che volete, qui è disponibile. Quindi non so, vogliamo vedere le notifiche. Clicco qua. Posso naturalmente cambiare il nome. Adesso qui lo metto in inglese. Mettiamo notifiche. S'aggiorna. Ecco qua. E mi apre tutto il pannello delle notifiche. Oppure come ho detto, qualsiasi tipo di applicazione. Per esempio qui ho messo Angry Birds. Oppure qui ho messo la scorciatoia per chiamare. Ho messo Call. E se clicco mi chiama Casa. Angry Birds. Clicco e mi si apre Angry Birds. Qui per esempio ho messo per Twitch, per scrivere un'email o per visitare un sito web. È un'applicazione che consiglio a tutti, tutti, tutti i possessori di iOS perché poi è gratuita ragazzi. Cosa volete davvero di più? È un'applicazione gratuita. Come ho detto, se volete avere una pagamento, vi permette di aumentare la grandezza dell'icone. Quindi metterle anche più piccole. Nascondere le etichette, quindi i nomi delle applicazioni non saranno più visibili. O aggiungerne di più. Però, come ho detto, potete anche utilizzare l'applicazione gratuita. Vedete voi. Loro hanno disponibile anche un music launcher che vi permette di fare la stessa cosa per la musica. Quindi per i brani musicali. Se volete, datevi un'occhiata anche a quello. Quindi scaricatela. Ve lo consiglio assolutamente. È gratuita. Vi permette di fare tante più cose con il vostro dispositivo iOS che fino ad ora potevamo solo fare con il jailbreak. Datevi un'occhiata. Ditemi se vi piace, se l'avete scaricata e cosa ne pensate. Saluti a tutti. Al prossimo video.